lasciatemi da solo lasciatemi da solo lasciatemi da solo ma lasciatemi stare lasciatemi stare lasciatemi stare ma lasciatemi solo lasciatemi solo Marco ho provato a parlare con Luigi per quello che è successo ma non se la sente di parlare Ale per il momento è meglio che lo lasciamo da solo ma trova Ale per il momento è meglio se lo lasciamo stare è meglio se lo lasciamo stare Marco ho provato a parlare con Luigi per quello che è successo ma non se la sente di parlare Ale per il momento è meglio che lo lasciamo da solo ma trova Ale per il momento è meglio se lo lasciamo stare è meglio se lo lasciamo stare Ciao Ciao Ciao